A tutela del marchio e contro la contraffazione in settimana la Corte di Giustizia europea ha stabilito con la sentenza del 12 aprile 2011 che un divieto disposto da un giudice nazionale operante in meste di tribunale dei marchi comunitari si estende in linea di principio all'intero territorio dell'Unione. A questo proposito Valentina Marcella ha intervistato l'avvocato Laura Turini, esperta nel settore brevetti e marchi. Contro la contraffazione la tutela del marchio da parte di un giudice nazionale che opera in veste di tribunale dei marchi comunitari si estende a tutti gli stati dell'Unione europea. E dunque la misura coercitiva da lui disposta in applicazione del proprio diritto nazionale produce effetti anche negli stati membri diversi da quello cui appartiene. Lo ha deciso la Corte di Giustizia dell'Unione europea con la sentenza C. 235.09 del 12 aprile 2011. Il caso è quello della società Crono Post SA, titolare del marchio comunitario e francese Web Shipping, depositati nel 2000 relativi ai servizi di logistica e di trasmissione di informazioni per la gestione di servizi di Corriere Espresso. Nonostante ciò la DHL Express France S.A.S. ha utilizzato il medesimo termine per un proprio servizio. Siamo in linea con l'avvocato Laura Turini, esperta nel settore brevetti e marchi. Avvocato Turini, questa pronuncia accresce ancora di più le tutele contro la contraffazione? Sì, questa tutela è molto importante perché di fatto in Italia, così come in ogni Stato europeo, c'è una doppia protezione per i marchi, nel senso che il titolare di un marchio può ottenere sia un marchio nazionale, sia un marchio comunitario. Se ottiene un marchio nazionale può difendere il suo marchio sul territorio dello Stato, ad esempio in Italia, e ottenere provvedimenti che hanno valore soltanto in Italia. Se invece ottiene un marchio comunitario, come è accaduto nel caso di web shipping, in quel caso ha un marchio che ha effetto su tutti gli Stati dell'Unione, quindi su tutti gli Stati che attualmente ne fanno parte e su quelli che apriranno in futuro. Il regolamento sul marchio comunitario prevede che ci siano alcuni giudici che sono giudici comunitari e che quindi decidono sulla contraffazione e sulla validità di un marchio con valore su tutta l'Unione Europea. Questo chiaramente per il titolare di un marchio è molto conveniente perché può agire ad esempio in Italia per tutelare il proprio marchio comunitario e ottenere una sentenza che ha automaticamente valore in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, in tutti quanti gli Stati d'Unione. Perché è importante questa decisione? Perché questa decisione si interroga su una cosa fondamentale. Premesso e pacifico che i giudici comunitari possono emettere una decisione di validità o di contraffazione che ha valore su tutta l'Unione Europea, ci si chiede se anche l'ordine del giudice con il quale stabilisce una penale a carico di colui che non cessa l'uso abusivo di un marchio abbia ugualmente valore in tutti gli Stati dell'Unione. La questione era un pochino meno pacifica. In questo caso la Corte ha stabilito che anche l'ordine, la penale diciamo prevista a carico del contraffattore ha valore in tutti gli Stati dell'Unione. È chiaro che provvedimenti di questo tipo sono provvedimenti molto forti e che dimostrano appunto la volontà del nostro legislatore comunitario di far sì che ci sia una tutela rafforzata su tutta quanta l'Unione Europea. Dalla Corte di Giustizia Europea ci spostiamo in Francia in settimana tra le proteste entrato in vigore il divieto di burka nei luoghi pubblici. Una legge che ha suscitato un acceso di battito in terra d'oltrealpe ma anche in tutta Europa. A questo proposito Ivano Stapciuk ha intervistato Khaled Fuad Alam, docente di sociologia del mondo musulmano presso l'Ateneo di Trieste. Lo scorso ottobre il Parlamento francese aveva approvato il divieto di portare il burka in Francia in tutti i luoghi pubblici come strade, piazze, parchi e esercizi commerciali. In questi giorni l'entrata in vigore della legge ha scatenato una lunga serie di polemiche. Molte donne islamiche infatti con il supporto di associazioni e di militanti hanno protestato davanti a Notre Dame de Paris nel corso di una manifestazione non autorizzata. Una sessantina di loro adesso sono in stato di fermo. Secondo il sindacato di polizia francese sarà molto difficile fare applicare la legge sul velo integrale in Francia. La legge prevede infatti di punire mariti e compagni che obbligano la compagna a indossare il velo integrale. Per loro sono previste sanzioni da 30 a 60 mila euro con due anni di reclusione se la donna è una minorenne. Per le donne invece sono previste multe fino a 150 euro con l'obbligo di un corso di cittadinanza francese. Fin da quando è stata invocata in nome della laicità a principio della Repubblica ha suscitato reazioni negative non soltanto fra i musulmani ma in gran parte delle comunità religiose che sono anch'esse colpite dal divieto di ostentare simboli di appartenenza. Ne abbiamo parlato con Khaled Fuad Alam, sociologo e docente di sociologia del mondo musulmano presso l'Ateneo di Trieste. Ci sono molte proteste e molte polemiche adesso in Francia per quanto riguarda la legge francese sul divieto di Burka, ma è davvero così necessaria in uno Stato laico? È evidente comunque che la questione dell'Islam è una questione che oramai fa parte della dimensione delle politiche europee, nel senso che si pone un problema di integrazione e la visibilità dell'Islam attraverso le moschee o il velo pone un reale problema. È evidente che molti musulmani sono divisi perché alcuni dicono che il fenomeno è talmente marginale che non ci servirebbe una legge per impedire l'uso della legge, ma è una specie di educazione che aiuterebbe in un certo senso all'emancipazione delle donne. Invece altri dicono l'esatto contrario, perché attraverso la questione del velo io intravedo soltanto la grande integrazione dell'integrazione delle comunità musulmane nel disegno europeo. Ecco, ma al di là dell'emancipazione della donna, veramente l'integrazione può passare attraverso un simbolo che è più un simbolo sociale? Non c'è nessun versetto nel testo coranico che afferma che il velo sia un simbolo religioso, è un'invenzione che hanno fatto le società musulmani di fronte alla problematica del loro statuto in situazioni di minoranze. Sono favorevole in un certo senso al divieto del Burkha, non del hijab, che è un'altra cosa, del velo integrale, perché in realtà lega uno dei principi fondamentali dell'Unione Europea, che è quello della coesione sociale e dell'eguaglianza. Il Dipartimento di Giustizia Statunitense ha dato il via libera a Google per l'acquisizione di Ita Software, società che si occupa del settore dei biglietti aerei. Vediamo i particolari nel servizio di Laura Muzzi. Semaforo verde per il decollo di Google. Il colosso di Mountain View punta in alto nel vero senso della parola e si appresta ad acquisire la Ita Software, che permetterà la prenotazione e l'acquisto di biglietti aerei online a prezzi scontati. Il via libera è arrivato dal Dipartimento Usa la Giustizia, che ha così autorizzato Google a procedere con l'acquisizione multimilionaria. La Ita Software è una start-up con sede a Boston che si occupa del settore dei biglietti aerei. Il Dipartimento di Giustizia statunitensi ha però imposto all'azienda di Mountain View una serie di regole, la cui osservanza sarà fondamentale per decollare nell'ormai vibrante settore dei biglietti aerei e delle informazioni pratiche di viaggio. Google rimarrà dunque sotto stretta sorveglianza, monitorata dal Dipartimento di Giustizia sull'effettiva implementazione dei termini stabiliti dall'accordo. Il colosso del search dovrà innanzitutto continuare a licenziare la tecnologia sviluppata da Ita, il software QPX, mettendola così a disposizione per un periodo di 5 anni in maniera non discriminatoria. Al software continueranno ad avere accesso società rivali come Kajak.com, Expedia e Fairlogix. Varie aziende specializzate si erano infatti riunite nel sito web firstsearch.org esprimendo la più allarmante preoccupazione a seguito dell'acquisto da 700 milioni di dollari. Google si sarebbe ritrovata in sostanza a dominare l'intero settore, avendo accesso esclusivo ad un software, appunto quello di Ita, che ha finora alimentato gran parte della concorrenza, Bing compreso. Stando ai termini dell'accordo annunciato dal Dipartimento di Giustizia, Google dovrà comunicare eventuali lamentelle ricevute, in particolare legate ad eventuali declassamenti della concorrenza nelle classifiche del ranking sul suo motore di ricerca. Inoltre è obbligata a dirigere delle misure di sicurezza che prevengano lo sfruttamento non autorizzato di informazioni relative alla concorrenza, oltre che dei dati appartenenti agli utenti di Ita. I legali di Expedia hanno sottolineato in una nota come le autorità statunitensi rimangano comunque preoccupate per l'accresciuto potere di Google sull'intero ecosistema della rete. Berlino, estradizione, mutua assistenza giudiziaria e confisca internazionale dei patrimoni criminali sono questi i punti principali discussi in settimana nell'Asse Germania-Italia. Ci dice tutto nel suo servizio Valentina Marsella. Un'Asse Italia-Germania all'insegna della cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata è stata al centro di un incontro bilaterale a Berlino tra il ministro della Giustizia Angelina Alfano e il suo omologo tedesco Sabine Leutosser-Schnannenberger. Al centro dell'incontro la necessità di puntare all'universalità della Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite sulla cooperazione internazionale in materia di estradizione, mutua assistenza giudiziaria e confisca internazionale dei patrimoni criminali. Sul piano bilaterale il ministro ha definito molto buoni i rapporti tra i due paesi, sottolineando che quest'anno ci sono state 27 estradizioni della Germania nei confronti dell'Italia. Alfano e il ministro tedesco hanno puntato l'accento sugli aspetti strettamente tecnici di cooperazione giudiziaria, come il cosiddetto preso offerto, ossia il periodo di custodia cautelare subito dal condannato nel procedimento per il quale ha riportato la condanna da eseguire. La Germania non lo riconosce, per questo Roma e Berlino cercano di armonizzare le rispettive legislazioni o interpretazioni legislative per evitare queste divergenze. C'è poi la questione delle amnistie. In Italia ci sono persone oggetto di mandato di arresto europeo che a seguito di un provvedimento di amnistia sono state liberate. Tuttavia la Germania non riconosce questa conseguenza giuridica del provvedimento e mantiene il mandato d'arresto europeo. Di conseguenza queste persone possono circolare in Italia, ma se vanno in Germania vengono arrestate. Quanto al contrasto alla criminalità organizzata, l'Italia si propone di realizzare un asse con la Germania per puntare all'universalità della Convenzione di Palermo delle Nazioni Unite. La cooperazione giudiziaria, ha fatto notare Alfano, è uno dei temi di fondo che si affronta dentro il Consiglio dei Ministri di Giustizia europei e quindi un rapporto forte con la Germania da questo punto di vista è assolutamente importante. E per questa edizione dello speciale TG Week direi che è tutto. Grazie per averci seguito e buon weekend dalla redazione di Justice TG.